USB, sciopero e presidio presso la direzione ArcelorMittal. Lo slogan ArcelorMittal e Morselli via da Taranto deriva da una fitta serie di motivazioni. Distruzione del tessuto industriale locale, clima di terrore instaurato all'interno dello stabilimento e tante altre ragioni che ci espone Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Ma oggi siamo qui davanti alla direzione ILVA con diverse centinaia di lavoratori a grido di Arcelor vai via, Morselli vai via. La posizione dell'USB di questi lavoratori è una posizione netta e chiara. Noi siamo quelli che continuano a ribadire che Arcelor è il soggetto sbagliato per Taranto, il governo deve intervenire per tentare di salvare il salvabile. Noi oggi abbiamo un'azienda che sta colando a picco, i lavoratori che sono collocati in cassa integrazione, i lavori AIA, quindi tutte le questioni ambientali che sono sospese in maniera unilaterale da parte di Arcelor. È una pressione in fabbrica che non ha precedenti nella storia di questa fabbrica. Neanche con i RIVA si viveva un clima così pesante all'interno della fabbrica che sta producendo licenziamenti ingiustificati. E' il dramma in centinaia di famiglie locali. Tutto quello che hanno fatto sull'appalto, che lo voglio ricordare, c'è l'appalto che da quando c'è Arcelor è diventato quasi come un ternallotto. Se sei fortunato sto mese pago la fattura alla tua azienda che può pagare lo stipendio, se sei sfortunato, e sono tanti gli sfortunati, devi aspettare quando Arcelor si ricordi per vedere quella misera paga nelle tue tasche. Quindi è una situazione che è diventata inaccettabile, tra l'altro con il governo che non ha un piano B perché paradossalmente si sta disegnando la peggiore delle ipotesi, che è quella di richiusura della fabbrica senza soluzione per i lavoratori. Ecco perché pretendiamo che il governo apra subito la discussione allontanando Arcelor, mettendo in sicurezza la fabbrica e aprendo finalmente una discussione vera sulla questione dell'accordo di programma su Taranto. Quindi cadenziamo una fabbrica che di per sé sta già morendo, cadenziamo le azioni e progettiamo la ricollocazione dei lavoratori, altrimenti noi rischiamo seriamente di avere oltre al danno ambientale anche il dramma occupazionale. C'è anche la difficile situazione dei lavoratori in AS, abbandonati a se stessi, il cui futuro è assai nebuloso. Sentiamo Michele Altamura, coordinatore USB lavoratori ILVA in AS. La presenza di Mittal su Taranto da quasi due anni ha fatto solo disastri, sia per la popolazione che anche per il popolo operaio. Noi chiediamo come USB subito che vada via da questa città e anche dall'Italia. Purtroppo abbiamo visto come Mittal vuole solamente soldi da noi contribuenti, dove ha chiesto anche questo altro prezzo di 400 milioni, che sono sempre soldi nostri degli italiani. Via Mittal da Taranto, via Morselli. È opportuno valutare, considerare la situazione nei vari reparti. Ecco Cosimo Scozio, delegato USB, aree officine. Buongiorno, sono Cosimo Scozio, delegato del USB per quanto riguarda le aree officine. Sono questa mattina qui insieme a tanti miei colleghi e compagni di lotta per contestare e far prendere una posizione netta e decisa al governo su questa azienda. Sicuramente farà andare via questa multinazionale che ha dimostrato in questo periodo di permanenza a Taranto tutto il contrario di quello che aveva detto inizialmente con i suoi buoni propositi che poi non sono stati né dimostrati e non hanno avuto nessun seguito, ma anzi hanno portato a una situazione peggiore di quella che era inizialmente con l'A.S. Siamo qui per farci sentire, perché se non ci facciamo sentire nessuno ci può dare una mano e speriamo che questo messaggio di malumore, di malessere che regna in questa fabbrica venga ascoltato e il governo possa prendere una decisione favorevole alla nostra situazione e darci una mano o quantomeno se si è deciso ormai di far chiudere questa azienda di metterci in una condizione di sicurezza, perché prima di tutto siamo persone, siamo operai, abbiamo una famiglia, ci serve il lavoro per poter comunque sopperire a quelle che sono le nostre esigenze, i quali pagare il mutuo per avere un tetto sulla casa, mantenere la nostra famiglia, mantenere i nostri figli e toglierci magari qualche piccolo spizio. Spero, ripeto, che lunedì ci sia un esito positivo e che la situazione possa migliorare con il passare del tempo. Grazie. La rabbia, lo sdegno e l'indignazione di USB si possono compendiare nelle parole di Mauro Doro, componente USB dei lavoratori Il Vaina S. L'USB è questa mattina, per dire una volta per sempre e a tutti quanti, per chi ancora non fosse chiaro, che Mittal deve andare via. Noi vogliamo che Mittal va via. Mittal e la Morselli devono andarsene via da questa fabbrica e da questa città, perché stanno danneggiando una città intera e tutta la classe operaia e tutti i lavoratori.